Non è così che si rilancia il futuro del Paese. Il Governo non ha ascoltato il grido di dolore dei nuclei familiari, specie quelli con figli. Questo era quanto espresso l'indomani dalla presentazione del decreto rilancio dal Presidente del Forum delle Associazioni Familiari, Gigi De Palo. Una posizione dura e chiara, sottolineata anche lo scorso 15 maggio, durante la giornata della famiglia. Dello stesso parere, anche futuro è famiglia, che imputa al Governo la totale assenza di una prospettiva e la sua profonda estranità al tema famiglia. Arriva a dirlo ai nostri microfoni Antonio Zerman, Vice Presidente di Famiglia e Futuro e Consigliere in seconda circoscrizione. Le famiglie sono stanche, sono stremate dalle difficoltà, ma ancora una volta non ci si ricorda che i figli, i bambini, sono la risorsa e il futuro del nostro Paese. Nei pochi interventi previsti il numero di figli a carico non è mai stato considerato, diversi sono 600 euro dei bonus autonomi per chi ha o per chi non ha o diversi carichi familiari. Pensiamo anche ai diversi costi sostenuti per i PC e i tablet necessari per le lezioni online dei figli. Un allarme particolare lo dobbiamo sollevare per le scuole pubbliche paritarie, che si trovano in una situazione ormai insostenibile. Eppure, i 900.000 ragazzi delle paritarie generano un risparmio di 6 miliardi all'anno per lo Stato. Quindi, in sostanza, se si vuole far ripartire davvero l'economia e arginare il crollo dei consumi, la strada è quella di investire sulle famiglie con figli. Ad esempio, un riconoscimento di 200 euro mensili per ogni figlio permette di rimettere in moto l'economia adesso e di far crescere nuove generazioni per il futuro. Un vero investimento che non è di parte, ma è lungimirante per il bene e il futuro di tutti.